In questa presentazione analizzeremo e vedremo il programma del caffè, il caffè che fu il primo periodico in Italia, nato nel 1764 a Milano, ma prima di vedere il programma vero e proprio cerchiamo di capire che cos'erano i periodici e come nacquero. Prima di parlare dei periodici è doveroso spendere due parole riguardo alle società, società che erano dei gruppi intellettuali che si riunivano di solito in caso in salotti privati per discutere, qui abbiamo riportato alcuni esempi, uno addirittura risalente a più di un secolo prima nel 1622 quando nacque la Royal Society, un fenomeno simile, e in Francia, a Parigi soprattutto, nacquero l'Encyclopedia di Delogue, in quanto era un fenomeno abbastanza in voga in Francia, e in Italia nacquero l'Accademia di Pugni, che sarà particolarmente importante rispetto a quello che diremo dopo, e l'Accademia di Gergoffi di Firenze. In questa terza slide passiamo abbastanza velocemente, in quanto sono riportati solamente alcuni dei periodici nati da questo periodo di discussioni da parte degli intellettuali all'interno delle società, e evidenziato il caffè in quanto nacque appunto dalle discussioni fatte dai membri dell'Accademia dei Pugni citata precedentemente. In questa quarta slide troviamo i personaggi di spicco dell'Accademia dei Pugni e anche coloro che fecero nascere il caffè, che fu fondato ufficialmente da Pietro Verri, filosofo dell'illuminismo, poi troviamo Alessandro Verri, scrittore e Cesare Beccaria, famoso giurista. Di seguito in questa slide troviamo il programma vero e proprio del caffè, primissima pagina del periodico, scritta da Pietro Verri, e viene utilizzato lo stile, come vedete, delle 5V, ovvero lo stile che ancora adesso i giornalisti, quando scrivono un articolo, utilizzano come punto di riferimento. Questa prima pagina è divisa in due parti, la prima parte in cui Pietro Verri immagina un dialogo immaginario con un ipotetico lettore del caffè e risponde alle domande che gli vengono poste. Nel secondo capoverso racconta invece, con un racconto immaginario ovviamente, come nasce il nome caffè e racconta che in questa bottega si serve un ottimo caffè e gente comune, ma anche intellettuali o non intellettuali, si riunisce e parla di qualsiasi cosa. In questo modo Pietro Verri spiega il perché di questo nome, ma tiene inoltre a spiegare che vita avrà questo progetto di questo periodico e qual è il fine di questo progetto. Ebbene, Pietro Verri ci tiene a precisare che il caffè deve avere un'attinenza all'utilità che avrà questo progetto nei confronti della gente, quindi se la gente non leggerà questo periodico significherà che questo periodico non sarà sembrato utile alla moltitudo, come direbbe Cicerone, e che quindi il progetto si deve concludere. In questo è implicito che non c'è alcun scopo di lucro per i poeti e gli scrittori, gli intellettuali che prenderanno parte a questo progetto. In quest'ultima slide, infine, troviamo alcuni dei punti focali che rendono questo testo esemplificativo della cultura del 1700, intellettuali che si divertono a parlare nelle società, a discutere nelle società, e a questo punto si divertono anche nel diffondere la conoscenza e la cultura. E lo stile semplice è atto proprio a questo, a diffondere la conoscenza tra la gente. Grazie. Grazie.